Oggi pescheremo con Rapala Countdown, color bianco, 5 cm, in questo bellissimo torrente della Val Tramontina. Un saluto grande ai fan dei pesci ad oscur l'Ans. Andiamo! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Diamo un rilascio. Grazie a tutti.